I pericoli del programma operativo straordinario che disegna la sanità del Molise dal 2015 al 2018 che abbiamo sollevato sono ben lontani dall'essere falsi allarmi. A parlare nel giorno dell'incontro romano definito decisivo dai parlamentari Ruta e Leva per le sorti dell'accordo sulla sanità con il commissario Frattura è il coordinatore nazionale del tribunale per i diritti del malato e di cittadinanza attiva Tonino Aceti. Secondo i comitati quelli che il governatore aveva definito falsi allarmi sono diventati una vera e propria questione nazionale oggetto di un'interrogazione parlamentare rivolta al ministro della salute dai parlamentari del Movimento 5 Stelle con la prima firmataria la deputata Giulia Grillo. Sono passati più di 20 giorni ha aggiunto Tonino Aceti dalla nostra richiesta di pubblicare sul sito internet della regione Molise il parere positivo del ministero della salute sul programma operativo straordinario richiamato dal presidente Frattura ma ha concluso Aceti non abbiamo potuto leggere nulla e questo ci preoccupa molto. Per il tribunale per i diritti del malato e cittadinanza attiva sarebbe invece il caso di fare chiarezza sulla vicenda e rendere accessibili le informazioni che riguardano i cittadini e il loro diritto alla salute. Confidiamo in una veloce risposta del ministro Beatrice Lorenzin alla nostra interrogazione hanno concluso i comitati e i parlamentari di 5 Stelle. L'assetto della sanità in Molise diventa dunque un caso anche a Roma dove passa il crocevia dei piani operativi e si interacciano gli interessi politici e imprenditoriali sulla sanità e come accade spesso in questi casi la sensazione è che tutto ciò avvenga a tre metri dalla testa dei cittadini e di chi in ospedale deve andarci per farsi curare e si spera guarire.